Capitolo diciottesimo. Insegnamenti senza tempo. Tutti conosciamo la sofferenza ma non la comprendiamo veramente. Se la comprendessimo veramente questo significherebbe la fine di essa. Gli occidentali vanno sempre di fretta e così la loro felicità e la loro sofferenza sono più estreme. Il fatto che abbiano molti chilesa può essere fonte di saggezza nota a piedi pagina. Chilesa contaminazione inquinante mentale fattore mentale che oscura e contamina la mente. Per vivere da laici e praticare il damma si deve essere nel mondo restando al di sopra di esso. Cominciamo con i cinque precetti basilari per far notare che Sila è il genitore più importante di tutte le cose buone. Note a piedi pagina. Cinque precetti, le linee guida morali per le azioni e i pensieri salutari. Per un elenco si vede il glossario alla voce precetti. Sila, virtù, moralità, precetto. Serve a rimuovere tutto quello che vi è di errato nella mente, a rimuovere quello che è causa di afflizione e di agitazione. Quando queste cose non ci saranno più la mente sarà sempre in uno stato di samadhi. Nota a piedi pagina. Samadhi concentrazione, unificazione della mente, stabilità mentale. All'inizio la cosa più importante è rendere Sila davvero stabile. Quando ne avete la possibilità praticate la meditazione formale. A volte andrà bene, altre volte no. Non preoccupatevi, continuate e basta. Se sorgono dubbi comprendete solo che essi sono impermanenti come qualsiasi altra cosa nella mente. Da questa base giungerà il samadhi, ma non ancora la saggezza. Bisogna osservare la mente al lavoro, vedere piacere e dispiacere quando sorgono dal contatto sensoriale e non attaccarsi a essi. Non siate ansiosi di ottenere risultati o progressi veloci. All'inizio un bimbo va a Carponi, poi impara a camminare, dopo a correre e, quando è del tutto cresciuto, può fare mezzo giro del mondo per venire fino in Thailandia. Dana può recare felicità a se stessi e agli altri se si dona con buone intenzioni. Nota a piedi pagina, Dana l'atto di donare, liberalità, generosità, fare offerte e lemosine. Però finché Sila non è giunta a compimento, l'atto del dare non è puro, poiché potremmo rubare qualcosa a una persona per darla a un'altra. La ricerca di piacere e di divertimenti non ha mai fine, non si è mai soddisfatti. È come una giara con un foro. Cerchiamo di riempirla, ma l'acqua fuoriesce continuamente. La pace della vita religiosa ha una fine certa, pone termine al ciclo della ricerca interminabile. È come tappare il buco nella giara. Vivendo nel mondo e praticando la meditazione, gli altri vi considereranno come un gong che, non colpito, non produce alcun suono. Vi considereranno incapaci, folli, sconfitti, anche se in verità è l'opposto. Per quanto mi riguarda non ho mai fatto molte domande agli insegnanti. Sono sempre stato ad ascoltare. Ascoltavo cosa avevano da dire, non importava se fosse giusto o sbagliato. Poi praticavo solamente. Come voi che praticate qui. Non si dovrebbero avere molte domande da fare. Se la consapevolezza è costante, allora si possono esaminare i propri stati mentali. Non c'è bisogno che nessun altro esamini il nostro umore. Una volta, mentre stavo con una jang, dovetti cucirmi un abito. Allora non c'erano macchine da cucire, si doveva cucire a mano ed era un'esperienza molto difficile. La stoffa era veramente spessa e l'ago non era acuminato. Continuava a ferirmi da solo con l'ago, le mie mani erano molto doloranti e il sangue continuava a gocciolare sulla stoffa. Poiché il compito era difficile, ero ansioso di portarlo a termine. Ero così assorto nel lavoro che non mi accorsi nemmeno che sedevo sotto il sole cocente e grondavo di sudore. La jang mi raggiunse e mi chiese perché sedessi al sole e non al fresco, all'ombra. Gli dissi che ero molto ansioso di finire il lavoro. Mi chiese dove hai fretta di andare? Voglio finire questo lavoro, così posso fare la meditazione seduta e quella camminata, gli risposi. Egli domandò, quando finirà mai il nostro lavoro? Oh, tornai a essere consapevole. Il nostro lavoro nel mondo non finisce mai, mi spiegò. Dovresti usare occasioni di questo genere come esercizi di consapevolezza e dopo che hai lavorato abbastanza? Fermati e basta. Metti il lavoro da parte e continua con la tua pratica di meditazione seduta e camminata. Iniziai a comprendere il suo insegnamento. Prima, quando cucivo, anche la mia mente cuciva e perfino quando mettevo da parte il cucito, la mia mente continuava a cucire. Quando compresi l'insegnamento della jang, fui davvero in grado di accantonare quel che stavo cucendo. Quando cucivo, la mia mente cuciva, ma quando smettevo di cucire, anche la mia mente smetteva di cucire. Quando mi fermavo, anche la mia mente si fermava. Conoscete il bene e il male sia quando viaggiate sia quando vivete in un posto. Non troverete la pace su una collina o in una caverna. Potete viaggiare fino al luogo in cui il Buddha raggiunse l'illuminazione senza essere affatto più vicini all'illuminazione. Quel che importa è essere consapevoli di voi stessi, ovunque siate e qualsiasi cosa stiate facendo. Viria, lo sforzo, non riguarda quel che fate esteriormente, ma solo costante consapevolezza e contenimento interiore. È importante non guardare gli altri per cercare i loro errori. Se si comportano in modo errato, non è necessario che soffriate. Se voi indicate ciò che è giusto e loro non praticano di conseguenza, lasciate le cose come stanno. Quando il Buddha studiò con differenti insegnanti, comprese che le loro vie erano manchevoli, ma non li denigrò. Studiò con umiltà e rispetto, praticò onestamente e capì che i loro sistemi non erano perfetti, ma fino a quando non raggiunse l'illuminazione non li criticò né tentò di insegnare loro. Dopo aver raggiunto l'illuminazione richiamò coloro con cui aveva studiato e praticato e volle condividere la conoscenza da poco scoperta. Pratichiamo per essere liberi dalla sofferenza, ma essere liberi dalla sofferenza non significa avere tutto quello che ci piacerebbe, né che tutti si comportino come vorremmo noi, dicendo solo ciò che ci fa piacere. Non credete a quello che vi dicono i vostri pensieri. In genere la verità è una cosa, i nostri pensieri un'altra. La nostra saggezza dovrebbe eccedere il pensiero, allora non c'è problema. Se è il pensiero a eccedere la saggezza, siamo nei guai. Nella pratica, Tana può essere un amico o un avversario. Nota a piedipagina. Tana, letteralmente sete, bramusia per gli oggetti dei sensi, per diventare o essere qualcosa, oppure per non diventare o essere qualcosa. All'inizio ci sprona ad arrivare in monastero e a praticare. Vogliamo cambiare le cose, porre fine alla sofferenza. Se però desideriamo sempre qualcosa che non abbiamo, se vogliamo che le cose siano diverse da quel che sono, ciò è solo causa di più sofferenza. Talvolta vogliamo forzare la mente a essere quieta e questo sforzo la rende solo ancor più inquieta. Allora smettiamo di esercitare pressioni e sorge il Samadhi. Poi, in quello stato di calma e serenità, iniziamo a farci domande. Che succede? Che senso ha? E così torniamo a essere agitati. Il giorno precedente il primo Sangayana, uno dei discepoli del Buddha andò a dire ad Ananda domani c'è il primo concilio del Sangha, possono parteciparvi solo gli Arahant. Nota a piedipagina. Sangayana, il primo concilio del Sangha, si tenne l'anno successivo alla morte del Buddha. Arahant, letteralmente un meritevole, una persona la cui mente è libera dalle contaminazioni, Chilesa. È anche un titolo del Buddha e il livello più alto dei suoi nobili discepoli. Perciò egli si decise. Questa notte diverrò un Arahant. Praticò strenuamente per tutta la notte, cercando di conseguire l'illuminazione, ma riuscì solo a stancarsi. Perciò decise di lasciare andare, di riposarsi un po', come se con tutti i suoi sforzi non volesse ottenere nulla. Dopo aver lasciato andare, divenne un illuminato non appena si sdraiò e la sua testa toccò il cuscino. Non sono le condizioni esterne a farvi soffrire. La sofferenza sorge dall'errata comprensione. Le sensazioni piacevoli e dolorose, gradevoli e sgradevoli, sorgono dal contatto sensoriale che a sua volta causa nascita mentale e divenire. Per non far sorgere brama e attaccamento dovete intercettarle appena sorgono, non dovete seguirle. Se sentite la gente parlare potete agitarvi, pensare che distrugga la vostra calma e la vostra meditazione, ma se ascoltate il cinguettio di un uccello non pensate nulla di tutto questo, lo lasciate semplicemente andare come un suono, senza attribuirgli alcun significato o valore. Non dovreste affrettare o accelerare la vostra pratica, ma pensare in termini di lungo periodo. Proprio ora si parla di nuove meditazioni, però se ci si accontenta di quella vecchia si può praticare in ogni situazione, sia che si recitino i canti monastici, che si lavori o che si stia seduti nella Kuti. Nota a piedi pagina. Kuti, la piccola dimora del monaco buddista, una capanna. Non dobbiamo andare a cercare posti speciali per praticare. Voler praticare da soli è per metà giusto, ma per metà è errato. Non è che non veda di buon occhio la pratica di molta meditazione formale, Samadhi, ma si dovrebbe sapere quando uscirne sette giorni, due settimane, un mese, due mesi, per poi tornare di nuovo a relazionarsi con la gente e con le situazioni. È lì che si guadagna in saggezza. Praticare troppo Samadhi ha il solo vantaggio di far diventare matti. Molti monaci, dopo essersi allontanati per il desiderio di restare isolati, sono solamente morti in solitudine. Trascurare la normale vita quotidiana e pensare che la pratica formale sia l'unico modo di praticare con completezza significa essere intossicati dalla meditazione. Meditazione significa far sorgere la saggezza nella mente. Possiamo farlo ovunque, in qualsiasi momento e in ogni postura. Grazie. 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 Grazie.